La sensazione che ho avuto io stamani visitando questa azienda è questa, di ognuno, grande specializzazione in ogni settore, in ogni ruolo, ma ognuno di queste eccellenze mette a disposizione della squadra le sue grandi qualità. Le squadre sono dei gruppi, non sono altro che dei gruppi di lavoro dove ognuno mette la propria grande qualità al servizio della squadra. La mia relazione con il tempo è che credo di non aver mai fatto un ritardo ad un appuntamento ed è una cosa che odio perché la considero una mancanza di rispetto nei confronti delle persone. Mi piacciono, a me piacciono gli oro rosi grossi, importanti, ne ho due o tre degli oblo e King Power. Mi piace molto l'abbinamento caociù, oro e caociù. Ecco il King! Ehi, è l'amaccelo! Ehi, è l'allenatore! Chateau di Kern, 2006. Sì, è fantastico! Tu conosco il vostro vino, no? Sì, è fantastico! Ciao! Grazie a tutti.